L'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo potrà ripianare il proprio debito nei confronti dell'azienda municipalizzata a Quedotto grazie al via libera dell'Aggiunta di Governo che ha autorizzato l'utilizzazione delle risorse previste dall'articolo 79 della legge regionale 8 del maggio scorso e che ammontano a circa 7 milioni e mezzo di euro. Si chiude così una vertenza storica tra IACP e AMAP che risale agli anni in cui a Palermo vennero realizzati gli alloggi al quartiere Zen 2 che furono occupati abusivamente ancora prima che venissero installati i contatori dell'acqua nelle singole unità immobiliari. Dei consumi quindi dovette esclusivamente farsi carico l'Istituto. Si tratta di un'anticipazione di liquidità spiega il Presidente della Regione Nello Musumeci che è stato possibile concedere grazie ad una norma inserita nell'ultima finanziaria e che è stata autorizzata sulla base di precise garanzie fornite dall'OIACP di Palermo. Una soluzione che mira a ridare serenità all'Istituto a vantaggio della sua funzionalità. D'ora in avanti avverte il Governatore non sarà più consentita alcuna occupazione abusiva e l'Istituto, ma vale anche per tutti gli atti, ne risponderà con i suoi vertici. All'AMAP con il quale ha raggiunto un accordo transattivo l'OIACP di Palermo verserà l'intera quota ricevuta alla Regione, mentre altri 3 milioni saranno rimborsati sulla base di un piano di rientro pluriennale. La legge, chiarisce l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, è stata pensata proprio per non pregiudicare il regolare funzionamento degli istituti autonomi, case popolari dell'isola che possono utilizzare somme derivanti da economie di finanziamenti e dei proventi e la cessione degli immobili non residenziali nella misura massima dell'80%, a condizione che il deficit risulti scritto in bilancio. L'OIACP di Palermo vanta un patrimonio immobiliare di circa 12 mila alloggi in tutta la provincia ed è una realtà da salvaguardare e sostenere.